Una forte tromba d'aria si è abbattuta in Salento, ci troviamo nel gioiello della Puglia per eccellenza, intorno alle 16 a Torre Sant'Andrea, Maria di Meridugno, questa forte tromba d'aria si è abbattuta nel litorale dell'Adriatico, proprio nelle marine di Meridugno, tra Roca, Torre Sant'Andrea, San Fuoco e Torre dell'Urso. C'è stata una grande paura da parte dei bagnanti, ma anche di coloro che vivono in loco, per colpa anche di un albero che si è andato a sradicare per colpa del forte vento e che è accaduto nelle automobili che si trovavano in sosta. Insomma, danni in gian, tip non si sono registrati, o meglio non si sono avuti dei feriti, però c'è stato un scappa scappa, un fuggifugio generale che ovviamente c'è stato e i danni ovviamente non sono passati inosservati. Qualcuno addirittura ha chiamato le forze dell'ordine perché spaventato da questa violenta tromba d'aria nel Salento. Ci troviamo in regione Puglia, ovviamente. Vi ringrazio per l'ascolto, vi ricordo che il Salento è una delle parti più belle della Puglia, perché la Puglia è tutta bella, ma soprattutto il Salento è una zona della regione in questione che è bellissima dal punto di vista del mare. C'è un mare fantastico, azzaradire e favoloso. Iscrivetevi, commentate e ci sono andato a un rado di vedere.